La danza sul labirinto, un evento originale, un dialogo a due voci che coinvolge l'arpista Antonella Ciccozzi, il noto attore Enzo De Caro e la scrittrice Maria Grazia Lopardi, è in programma domenica 18 marzo all'editorium del Parco con inizio alle 18, nell'ambito del cartellone della Società Aquilana dei Concerti Barattelli. Il labirinto e la danza sono elementi che rimandano al mito, all'antica e al favoloso mondo dell'immaginario. Nessuno strumento più dell'arpa evoca gli antichi cantori e le storie delle loro raccontate e tramandate. Con brani tratti dal repertorio e con ceni di improvvisazione, l'arpa dialoga con la voce, sostiene e ispira il testo, a volte fondendosi con esso per far rivivere il mito attraverso un'unica vibrazione. L'arpista Aquilana Antonella Ciccozzi, musicista sensibile e attenta al repertorio per arpa, sia nel recupero di pagine poco frequentate, sia nell'esplorazione di nuove composizioni e sonorità, già docenti al Conservatorio di Ferrara, condivide questo originale progetto con l'attore Enzo De Caro, artista noto al pubblico del teatro e della televisione italiana. Insieme conducono gli spettatori in questo viaggio attraverso un dialogo suggestivo e coinvolgente. I testi sono tratti dalle pubblicazioni La Danza del Laberinto, L'incanto unico della vita di Maria Grazia Leopardi e Chiara Mastrantonio e La Divina Commedia, il simbolo nascosto di Maria Grazia Leopardi. I brani musicali avranno inizio da John Sebastian Bach per procedere con altri di vari autori come Maurizio Tedeschi, Carlo Salzedo, Michel Tournier, Goffredo Petrassi, Bernardo Mariani, Benjamin Brittman e improvvisazioni.